La New Basket Agropoli vince anche in Calabria contro il Rende in trasferta e resta stabilmente al secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla capolista La Mezzia, uscita sconfitta sul parquet di casa ad opera della palla a canestro Salerno. I delfini impegnati ieri pomeriggio fuori casa hanno saputo dettare i tempi di gioco con una gara attenta uscendo vincitori dal parquet ospite appunto. I cilentani partono subito bene e chiudono il primo quarto con un largo vantaggio. 8 a 23. I locali nel secondo quarto guadagnano terreno ma è la New Basket Agropoli ad aggiudicarsi anche il secondo parziale chiudendo il primo tempo in vantaggio di 18 lunghezze 25 e 43. Nel terzo e quarto quarto sebbene il Rende riesca ad aggiudicarsi entrambi i parziali la compagine di Coach Lepre mantiene saldamente l'inerzia della partita e chiude la stessa col punteggio di 64 a 77. Coach Lepre commenta abbiamo rispettato la tabella di marcia facendo due vittorie consecutive in altrettante trasferte giovedì contro l'Angri e oggi contro Rende. Era fondamentale farlo come detto alla vigilia per quella che sarà la post-season. Ora ci aspetta Cerco la domenica prossima quindi inizierà la fase a orologio in cui avremo tre gare in casa e due in trasferta. Venendo alla gara contro il Rende era assente di Mauro ma i ragazzi hanno fatto una buona gara con un approccio subito importante tale da far comprendere agli avversari che volevamo vincere. Sapevamo che era una gara complicata e così è stato ma siamo stati bravi tornando a casa con il bottino pieno.